I distributori automatici dei sacchetti per la raccolta differenziata rappresentano una vera innovazione per il territorio. Attivi 24 ore su 24 ti garantiscono un notevole risparmio. Non sei più vincolato agli orari e ai periodi di distribuzione, ma puoi ritirare i tuoi sacchetti in completa autonomia quando preferisci. Il loro funzionamento è molto semplice, ti basta avere con te la tessera sanitaria dell'intestatario dell'Atari e seguire pochi e semplici passaggi. Posiziona il codice a barre presente sulla tessera sotto il lettore a infrarossi o inserisci la tessera nel lettore. Ritira la tessera. Sul display appariranno i sacchetti disponibili. Seleziona quelli che vuoi prelevare seguendo le indicazioni del distributore. Attendi qualche istante prima di aprire lo sportello di plexiglass. Un messaggio sul display ti avviserà quando sarà possibile prelevare i sacchetti. Solo in questo momento potrai aprire lo sportello e ritirare i tuoi sacchi. Amiamo l'ambiente e ce ne prendiamo cura!